Don Giosuè Lombardo, giugno un mese ricco di appuntamenti e di ricorrenze nel segno di San Vincenzo Romano. È proprio il mese del nostro parroco santo, un percorso di vita della sua esistenza tutta votata alla evangelizzazione della nostra città. Il 3 giugno 1751 nasce in via Episcopia. Viene battezzato il giorno successivo nella parrocchia di Santa Croce, quella del 1500. Poi abbiamo l'ordinazione sacerdotale il 10 giugno 1775. L'11 giugno la prima messa solenne in Santa Croce, 15 giugno 1794, la terribile evoluzione del Vesuvio. Rimane in piedi il campanile. Il 5 giugno 1796, in processione dal Carmine, pone la prima pietra qui accanto ai resti superstiti del campanile. Nel 1827 finiscono i lavori, riapre o meglio apre solennemente le celebrazioni in Santa Croce. Ci dovrebbe vedere un poco più pellegrini presso il parroco santo. Ecco, lo ripeto, ecco, ma aspetterei più i torresi. Sto registrando più pellegrinaggi da fuori torre che dalla stessa torre. Ricordo pure, no, che il 20 del mese, ogni 20 del mese, è dedicato alla preghiera di intercessione per gli infermi. Quest'anno c'è una provvidenziale coincidenza. Il giorno della ordinazione sacerdotale noi celebriamo il Corpus Domini, che vedrà qui in Basilica alle ore 19 tutto il presbiterio della città per la celebrazione dell'Eucarestia, preceduta dal Rosario alle 18.30 con le meditazioni eucaristiche di San Vincenzo e seguita dalla solenne processione per via Salvatornoto, via Roma e via Diego Colamarino, per concludere in piazza con la solenne benedizione eucaristica. Quindi il suo è un invito, un appello a pregare, a riflettere in questo mese appunto molto intimamente legato alla città San Vincenzo Romano, dalla canonizzazione del 2018. Che cosa è cambiato? Dobbiamo attrezzarci i prossimi passi da compiere e rendere la città e la piazza fruibile ai pellegrini che vengono da fuori, rendere la Basilica appunto di riferimento a un culto più sentito per i torresi. Proprio in occasione di queste ricorrenze dedicate a San Vincenzo c'è una nuova statua che lo ritrae qui in Basilica. Sì, è veramente una statuetta di 25-30 centimetri che ripropone la immagine che noi veneriamo presso casa San Vincenzo. Molto bella, ma soprattutto riproduce fedelmente la dolcezza di quel volto che noi veneriamo a casa San Vincenzo in via Piscopia. Vincenzo Montella, possiamo appunto ammirare questa piccola statuetta che ritrae San Vincenzo Romano. Come è stata realizzata? A noi è stato affidato il compito di realizzare queste statuine per la devozione domestica. È stata realizzata con una nuova tecnica, quella della scansione 3D, quindi questo ci permette di avere una miniatura perfetta e quanto più somigliante alla statua originale in tre dimensioni. Queste statuine di devozione domestica ci sono sempre state e possono essere anche definite come un ponte tra la terra e il cielo, affidarsi al santo che viene riprodotto. La statua è stata appunto riprodotta seduta e questo vuole essere anche un invito alla preghiera appunto nelle proprie case quotidiane ad affidarsi sempre a San Vincenzo Romano che è il nostro simbolo per noi torresi, è il nostro santo protettore. Queste statuine saranno disponibili qui in Basilica? Le statuine sono disponibili qui in Basilica e anche presso il nostro negozio e anche online per i torresi che si trovano fuori torre.